Allora, fratelli, siamo oggi in piazza perché vogliamo la libertà, però la libertà non è mai data volatariamento dall'oppresore, deve essere richiesta dalle oppressi. Fratelli, dobbiamo ricordarci che la terra non è un regalo dei nostri genitori, sono i nostri figli che ce la prestano. No, fratello, quando sei nato hai urlato e il mondo si è rallegrato, quindi vivi la tua vita in modo che quando muori il mondo piangerai e ti rallegrerai. E perché facciamo l'uso di droga e di alcol? Perché? Perché l'uomo pianto ci vuole senza forza e perciò ti dà la droga. Non dobbiamo fare l'uso di droga e l'accusa di alcol? Fratelli italiani, dobbiamo vivere semplicemente in modo che gli altri possano semplicemente vivere. Il mondo è stanco dell'odio. L'unica arma disponibile per l'umanità è la non violenza, perché è più potente delle più potenti armi della destruzione elaborata dall'intelligenza dell'uomo. Però l'uomo pianto ci nasconde dietro il terrorismo per massacrare l'innosante solo per l'interesse politico. I bambini muoiono in aflalista, in togista, in Siria, in Guinea. Fratelli, noi abbiamo imparato a volare nell'aria come uccelli. Abbiamo imparato a nuotare nell'oceano come pesci. Ma non abbiamo imparato a camminare sulla terra come fratelli e sorelli. Oggi siamo in piazza per dire alla questura di Napoli che la libertà non è l'assenza di impegno, ma la capacità di scegliere. Lo vogliamo per questo di soggiorno uno anno e prima la Commissione, perché non è un senso che loro danno per questo di sei mesi e poi rinnoviamo e dobbiamo fare uno anno e mezzo prima la Commissione. Questo è l'ignorenza. La libertà inizia dove finisce l'ignorenza, lo sappiamo. Gli italiani che credono che noi stranieri mangiamo i soldi italiani, è un trappola del governo. Devono vi spiegare da dove viene i soldi che noi mangiamo. Chi lo mangia qua in Italia? Noi e noi. Noi siamo dei centri senza salute, siamo dei centri senza acqua potabile, siamo dei centri della felicità senza investiti. Allora i soldi chi le mangia non è noi. Dobbiamo cercare insieme chi mangia i nostri soldi. Fratelli, non possiamo costreggere qualcuno a rimanere in vita, lasciare o restare una scelta. Quindi proviamo ad essere grati alle persone che hanno scelta oggi di essere con noi qua, soprattutto l'ex OPG. Fratelli, l'amore è la sola fiore che non ha bisogno di stagione per scudersi. La lotta è il nostro percorso, è solo il nostro. Gli altri possono camminare con noi, ma nessuno può camminare per noi. Vi ringrazio, grazie. Grazie.